Apple e AI, è qui, è qui, ci siamo e ti darò quella che secondo me sono le tre parole, le tre P della Apple che in questo caso identificano questa presentazione fatta da poche ore della nuova intelligenza artificiale in casa Apple le tre P sono personale, privacy e prevedibile, ma questa terza prevedibile non è quello che ti aspetti e ti invito a restare fino alla fine di questo video, nel frattempo prima di sgranocchiare le prime news puoi sgranocchiare la nostra newsletter settimanale automaticin.com slash gratis ti ci scrivi gratis e ogni settimana ti becchi ben tre strumenti di automazione e intelligenza artificiale che ti aiutano a mettere il pilota automatico al tuo business, why not? Perché no? E allora, vediamo la prima P. Apple ha capito che non può competere con le intelligenza artificiale esterne tra un po' capirei che cosa intendo, però menziono Gemini, menziono CACPT, menziono Copilot, menziono Cloud e ce ne sono tante altre. Il concetto che dice Apple è, hai presente che i miei dispositivi si chiamano iMac, iPad, iWatch, iPhone, tutto quello ai di fronte all'inizio, che vuol dire? E vuol dire che ai sono io, perché la Apple quello che dice è che al centro dei propri dispositivi da cui il design, l'interfaccia utente, la super esperienza, c'è la persona che lo utilizza ci sono io, io consumatore. E allora, poteva mai fare un'intelligenza artificiale che guardava all'esterno invece che guardare all'interno dei suoi dispositivi? Anche perché, udite udite, è l'unica casa che produce hardware, software e in questo caso anche intelligenza artificiale, a differenza degli altri che prendi Google, che fa il telefonino Google, sì, ma prende anche la sua intelligenza artificiale e la spara dentro ai Samsung, gli Android in generale. Mentre Apple, no, no, è un ecosistema da sempre, è dell'ecosistema, sempre fatto il suo punto di forza, dove parla con i suoi dispositivi. Quindi che cosa ti fa fare? Beh, trascrizione delle chiamate, utile, quindi tu la puoi registrare e trascrivere, molto molto carina come cosa. Integrazione del sistema, tipo, puoi chiedere l'intelligenza artificiale e adesso capiremo bene come nella pratica utilizzeremo questa robetta qui, gli puoi chiedere cercami le foto di mia mamma, cercami questa parte, in questo video fammi una ricerca, oppure lo puoi scrivere tu, cerca per esempio un elemento, ma invece di cercarlo nei testi, lo cerca all'interno del video. Sempre tra cose personale, riconoscerà la tua grafia e quando scriverai male, perché sarai peggio della tua grafia normale, perché scrivi velocemente, lui correggerà il testo che avrai scritto e lo porterà nuovamente all'interno della tua scrittura, chiamiamola quella normale. Evidentemente poi tutto questo è possibile trascriverlo, trasformarlo in testo, copiarlo, puoi farci una serie di robette. Parte immagini, potrai generare delle immagini, anche delle emoji carine, un po' da bimbo minchia, nel senso nel mondo professionale non so dirti quanto mettere le emoji dei tuoi clienti possa essere un vantaggio molto apprezzato, ma sicuramente Apple non fa parte solo del mondo di professionisti e imprenditori come siamo noi. Quindi ci sta. Cosa molto interessante, è arrivata la parte di trascrizione, riassunto, rende più colloquiale, rende più professionale un testo ed è multidispositivo, multi-applicazione perché è tutto integrato nel sistema operativo che è sempre fatto in casa Apple. Quindi, di base il concetto è magari quella roba che si faceva una volta, ti ricordi l'inizio, parlavamo qualche anno fa dell'intelligenza artificiale, all'inizio, nel fase del copywriting, ti lascio un video qui in alto in descrizione con i migliori 21 strumenti di copywriting, ebbene, in quel video si vedevano i primi strumenti, ti cito, writer, per iniziare a copiare, riassumere, citare. Ok, quella robetta lì, ecco, è arrivata in casa Apple. Quindi è una roba vecchia, ma che messa in un ecosistema diverso, può fare il suo gioco. Una cosa interessante riguarda la possibilità di condivisione di schermo multidispositivo, l'adattamento delle finestre intelligente, quindi tu trascinerai le finestre all'interno del tuo desktop e si auto-resize, si auto-ingrandiranno, rimpicciolereanno, insomma, faranno il gioco anche estetico della tua quotidianità, ma tutta sta robetta qui che ti ho detto, la principale portatrice di intelligenza artificiale, in realtà molto carino il nome, non si chiama Apple, AI, in realtà si chiama AI, che sta per Apple Intelligence. Cioè, non è più artificial, anzi, la parola artificial leggevo da qualche parte in qualche blog, che non è stata proprio menzionata in questa presentazione, ma tutti ci si aspettava qualcosa di più interessante, sì, ma secondo me si poteva fare qualche cosa in più, e adesso ti dico qual è la direzione che si potrebbe prendere, ma il concetto del personale è che al centro di tutto questo ci sarà il tuo assistente personale, quello che era nata o quella che era nata per essere il tuo assistente personale, che è Siri. And when you talk to Siri, you'll notice this elegant glowing light around the edge of your screen that shows Apple Intelligence working for you. Siri è quella cosa che una fracassata di anni fa è nata proprio con questo intento, e che per anni è stata ferma. Alla fine di questo video ti racconterò un pochettino il perché, ma il concetto di base è che la prima P di questa presentazione della Apple è la Apple Intelligence e passa attraverso Siri, che viene ridisegnata come esperienza. Diventa intelligente, capisce la parte contestuale, capisce i testi, capisce, anzi, attraverso che si può anche iscrivere a Siri, quindi non più solo dettare, capisce il contesto ed è interapp. Quindi non è più una cosa legata ad alcune funzioni che sono per lo più le funzioni native del sistema operativo Apple, ma della parte iOS, ma si interfaccia con applicazioni esterne e si interfaccia con quelle che sono le persone della tua vita. Perché se è in quella specifica salvataggio, dove hai salvato mamma e gli hai messo magari nell'applicazione il volo di mamma, fanno l'esempio, puoi chiedere quando arriva il volo di mia mamma, quando a terra e lui capisce che è tua mamma, qual è il volo, qual è l'applicazione, come andare a prendere le informazioni. E ti risponde finalmente in modo intelligente, non più con, ah scusami non ho capito, oppure qui trovi le informazioni con quattro link messi in croce. Cioè, voglio dire, il mondo dove stiamo andando è un mondo comandato dalla voce. L'intelligenza artificiale è sempre più un assistente che nella ciccia ci aiuta a fare le cose. Ecco, Apple era partita, come al solito, super bene con Siri, si era perso un po' per strada e adesso l'hanno un poco recuperata. La seconda P, ti invito a restare qui per la terza, che è quella secondo me più interessante, ma la seconda P riguarda la privacy. Non da sottovalutare perché qual è il concetto? La notizia croccante. La notizia croccante è che fino adesso tutto l'ambaradan dell'intelligenza artificiale gira in cloud, gira su internet, pesca dai server della casa, diciamo, di produzione, facciamo l'esempio di OpenAI, e beh, pescano le informazioni lì. E lì lasciano i pezzettini delle tue informazioni personali. Ora, quando si tratta magari di fare cose di lavoro, ancora ancora, forse, beh, non lo so, ma il limite ci può essere, ma quando si tratta di mettergli le tue informazioni personali sul tuo computer, le foto dei tuoi figli, delle tue cose mediche, della tua vita, perché ormai questi cosetti qui ce li abbiamo praticamente ovunque, tra Apple Watch, iPad, iPad, iLife, allora è probabile che la sicurezza è un aspetto interessante. Che cosa hanno fatto? Riassumendo, hanno reso sicuro i dati perché vengono processati all'interno appunto del chip, del processore del dispositivo Apple. E questo spiega anche un po' il perché questi dispositivi sono diventati così tanto potenti senza dare poi realmente potenza di calcolo all'iPhone, per esempio. Che te ne fai di un processore così potente su un hardware, insomma, un software che più o meno può fare sempre le stesse cose? Ecco, probabilmente in previsione di questa AI perché si potrà utilizzare dall'iPhone 15 in poi. Quindi la potenza di calcolo serve perché tutti i dati saranno processati locali e qualora vengono mandati esternamente ci sarà un sistema di server particolarmente interessante controllato da terze parti che garantisce sostanzialmente che l'infrastruttura è solida e protetta da attacchi. Ma la parte più interessante arriva con la terza P. Ma prima io ti sfido, ti sfido, se non l'hai ancora fatto, iscriviti gratis a questo canale YouTube, attiva la campanellina e godi tre volte. Numero uno perché pubblichiamo video, tutorial, automazioni e figate come quella di oggi che ti aiutano a vendere di più senza stress. Numero due perché è gratis, perché no. Numero tre perché se lo scopri la tua concorrenza possono essere bei dolori. La terza P è prevedibile. Ora, guardami negli occhi, non è prevedibile quello che ha detto la Apple. Sì, rumors c'erano, sì, si poteva fare qualche cosetta in più, ma era prevedibile che integrassero chat GPT. L'intelligenza, delle intelligenze artificiali, la propisa, la superstar, tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti la integrano. Ma secondo me, mio punto di vista personalissimo, il modo in cui lo fa Apple è particolarmente interessante. Perché? Perché Apple divide. Dice, ragazzuoli, facciamo un gioco. Io sono Apple, io produco dispositivi personali, iMac, iPhone, iPad, io, io di utente, io casa produttrice che do in mano e metto in mano all'utente la mia tecnologia. Ebbene, io tutta quella robetta lì me la gestisco io, con la mia, diciamo, il mio codice, il mio hardware e il mio software. Però quando riguarda la roba che guarda fuori, devi chiedere cose, informazioni che non possono essere riperite per lo più all'interno del dispositivo, ma guardano all'esterno, ebbene, prendo l'intelligenza artificiale più evoluta al mondo, in questo momento è nella 4O, disponibile gratuitamente. Quindi anche nella versione gratuita, chi ha l'abbonamento a ChatGPT, ebbene, se non sai che cosa è ChatGPT ti lascio un bel corso, un bel video tutorial, soprattutto della 4O e dell'applicazione desktop, queste due cose le trovi in descrizione. Quindi 4O da un lato e la parte del desktop dall'altro, dell'applicazione desktop, che è rivoluzionaria in questo contesto, le trovi in descrizioni. Ma lui le dice, cioè, secondo me è una scelta strategica fighissima. Io, tutto quello che riguarda i miei utenti, me lo guardo io, me li proteggo io con i miei sistemi, la mia sicurezza, il mio codice, il mio hardware, ma dall'altra parte, tutto ciò che riguarda guardare all'esterno dell'intelligenza artificiale, io collaboro con terze parti e la cosa l'hanno specificata benissimo, perché Apple fa sempre questo gioco, no? Ciò che è mio è mio, ma se vuoi entrare a casa mia devi farlo con le mie regole aprendo l'app delle terze parti. Tutti noi, insomma, su dispositivi abbiamo app di terze parti, perché abbiamo solo app iPhone o Apple o che che sia. Il concetto che dice è, io integro ChatGPT in questo momento, in questo momento, ma sono aperto, o aperta, come casa di produzione, a tool di terze parti. Cioè, come ha sempre fatto con l'Apple Store, dice io per adesso mi prendo ChatGPT, facciamo che io mi prendo la superstar delle intelligenze artificiali di questo momento, ma poi state tutti attenti che se volete potete venire a dama da me e giocate, come dico io, nel momento in cui io devo chiamare un'opzione che resta tale, cioè tu puoi disabilitare ChatGPT e tenere solo l'intelligenza artificiale, la Apple, l'intelligenza all'interno dei tuoi dispositivi, con la Siri nella versione intelligente. Ma se vuoi andare oltre, vuoi prenderti quella che va esterno, oggi ti pigli ChatGPT, anche gratis, domani, chissà, altre applicazioni, altre invenzioni, altre robette, tranquilli, io te le sbatto dentro. Molto figa, molto interessante, finalmente una cosa nuova, perché fino adesso le varie intelligenze artificiali si erano rincorse, ma anche molte funzioni, diciamocelo, che hanno presentato in questo evento, ricalcano, cioè le icone che ti puoi colorare, sei un Android, hai fatto un Samsung, ma lasciamo perdere, queste sono cose che possono essere secondo me interessanti, Apple è sempre un'attenta, insomma, una parte estetica molto importante, una parte di design proprio, di prodotto, lo sappiamo, molto molto importante, quindi ci può stare, non era sicuramente la cosa più interessante, ci sta che l'abbiano fatto, ci sta la calcolatrice sull'iPad che hanno pubblicato finalmente, anziché che viva perché sta calcolatrice sugli iPad non ci doveva stare, integrata anche con la parte di scrittura che ti dicevo, insomma, ecosistema Apple che secondo me si rafforza all'interno delle nostre mani, nella nostra quotidianità, perché quello è quello che mi interessa a me, cioè non mi frega che tu fai una super mega intelligenza artificiale accessibile a pochi, a me interessa la super intelligenza artificiale o un'intelligenza artificiale spiccia spiccia, ma che noi possiamo utilizzare tutti i giorni nelle nostre vite, e stare qui ancora a cercare di parlare con Siri o con un ecosistema che non comunica, ecco lì che ci mancava e quindi hanno fatto bene, molto bene perché guardano al personale, molto bene perché guardano all'esterno, ma se vuoi capire perché Siri è ora intelligente, e lo diventerà brevissimo, ma prima era scema, era rimbambita, e beh ti lascio a questo video che colma un po' il gap e ti spiega perché stiamo andando, dove stiamo andando e come ci stiamo andando, dando uno sguardo al passato e uno al futuro.